Si trovava ai domiciliari dopo essere stato arrestato la scorsa settimana a seguito di un'aggressione nel parcheggio Eden, ma è stato sorpreso dalla polizia municipale di Arezzo fuori dall'abitazione e così è finito dietro le sbarre. L'operazione è scattata nel corso di un controllo notturno quando gli agenti incaricati della sorveglianza della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un nord africano si è presentata al domicilio dell'uomo. Arrivati al palazzo dove c'è l'appartamento in cui il 27enne avrebbe dovuto rimanere senza allontanarsi in mancanza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria hanno controllato inizialmente fuori poi hanno suonato ripetutamente il campanello. Dopo lunghi minuti di attesa la porta si è aperta ma di fronte agli agenti non si è presentato l'arrestato bensì un'altra persona italiana e coinquilina che però ha dichiarato di trovarsi sola e non sapere dove si trovasse in quel momento il 27enne uscito di casa ormai da qualche ora. Gli agenti hanno così passato al setaccio prima le stanze ed in seguito le parti comuni condominiali del palazzo senza però trovare l'uomo. La pattuglia ha preso atto dell'evasione ha così informato la centrale operativa che si è messa alla ricerca del 27enne rintracciandolo solamente nel pomeriggio del giorno dopo. La municipale lo ha denunciato alla procura per il reato di evasione e comunicato il fatto al tribunale Aretino che ha disposto immediatamente l'aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari sostituendola con la custodia in carcere dove il nord africano è stato accompagnato.